Frascarelli, l'estate è iniziata, c'è stato questo cambio di gestione del servizio idrico, però sembra di essere tornati al 2017, tornano i disagi, qualcosa non quadra. Noi lo avevamo detto qualche tempo fa, proprio su questa emittente televisiva, siamo venuti oggi a rappresentare la disperazione di cittadini, Piazzale Torraga, Via Buono a Roti, tutti i quartieri periferici che comunque lamentano in questa ultima settimana scarsità d'acqua e quella poca che viene in alcune ore a Singhiozzo. Scarsità anche di informazioni quando uno cerca di contattare ASEA? Certo, ASEA non è partita col piede giusto, non si sta comportando bene dal nostro punto di vista, perché il disco registrato, le attese per parlare col call center e per sentirsi dire, pensate bene cari degli spettatori, cari cittadini, una signora mi ha contattato e mi ha detto che il call center di ASEA ha proposto delle modifiche, quindi le emissioni di Vasconi o l'acquisto di un motore per andare a succhiare con pressione nell'arteria principale. Caro sindaco Cozzolino, ma non dovrebbe essere lei a fare da tramite, da fulco tra i cittadini e la SPA nazionale per cercare di ottenere qualche giovamento, anche privato, anche per dare una mano a questi cittadini. Insomma, il passaggio frettoloso ad ASEA cosa ha portato di miglioramento? Avevamo allora ragione noi, che Cozzolino è allineato alla scelta politica della raggi nazionale, che tutto quello che abbiamo letto nelle pagine, nelle cronache nazionali repubbliche, all'Espresso, vi ricordate il caso Lanzalone? Tutte figure proposte da Grillo, tutte figure ben pagate che ricoprono le alte sfere della SPA ASEA e che comunque sia vedono il Movimento 5 Stelle aver fatto la spartizione delle poltroni. Su tutto questo la politica di Cozzolino è assente, è allineata. Allora che ci venite a dire? Che ASEA porterà dei miglioramenti? Adesso vedremo le bollette, il servizio non c'è, i miglioramenti non ci sono perché Cozzolino non l'ha chiesto, vedremo le bollette e ci ritroveremo su questi emittenti.